salve a tutti benvenuti a questo nuovo video ovviamente stamattina parliamo dei mercati finanziari con ovviamente come ogni mattina io ovviamente vi do appuntamento anche nel corso della giornata perché parleremo anche dei mercati principalmente quelli americani e italiani salve a tutti cristian ciuffa sempre qui con voi come ogni giorno allora diciamo che in certi versi abbiamo raggiunto dei target diciamo giornalieri sul nostro intraday abbiamo una situazione anche di stasi del mercato proprio in vista di appuntamenti settimanali che poi andremo a vedere nel corso del video una cosa importante ovviamente è il appunto il raggiungimento da parte dell'euro dollaro adesso andiamo subito a condividere lo schermo con voi per farvi vedere quello che è successo con l'arrivo esattamente nel punto dove diciamo ce l'aspettavamo sugli 1,10 ovviamente io come sapete mi aspetto diciamo in linea di massima un euro dollaro intorno agli 1,12 come trend a rialzo dopo il trend che è venuto a formarsi ribassista fino a toccare praticamente gli 1,09 e volevo anche farvi vedere quanto è importante quello che si sta svolgendo in questo momento passiamo subito proprio per dare uno sguardo in in maniera più efficace su quello che è diciamo il l'orario perché voglio far vedere principalmente quello che sta succedendo in vista della canalizzazione che c'è in questo momento guardate il grafico che cosa ci viene ad indicare prima di tutto una canalizzazione del prezzo tra queste due aree fondamentali infatti io volevo volevo sottolinearvele che una è questa intorno appunto agli 1,9 e 500 l'altra è proprio gli 1,10 quindi praticamente questo è il diciamo l'area dove il prezzo sta ristagnando però se andiamo a controllare questo aspetto del prezzo vedete che questo è un rounding top cioè si sta configurando appunto e si è configurato quasi praticamente un rounding top quindi io che cosa mi aspetto di questo rounding top a parte che le medie mobili e diciamo l'RSI ci indicano non un aspetto rialzista vero e proprio ci indicano però che la volatilità ancora vedete è ancora molto bassa no rispetto diciamo a tutto il trend che anzi a tutta questa fase laterale però abbiamo dei segnali positivi tra cui l'intersecazione delle medie e del prezzo sulla 200 periodi come vi avevo già accennato quindi che cosa succede che qui potrebbe formarsi un canale che potrebbe andare a prendere gli 1,09 magari 800 l'1,09 diciamo intorno a questo prezzo qui io penso è molto più probabile cioè gli 1,09 700 per poter poi ritestare questa zona e romperla a rialzo questo è quello che possiamo aspettarci diciamo perché perché questo io lo vedo comunque appenendole e poi comunque dobbiamo ancora vedere diciamo l'esploit vero e proprio del trend rialzista comunque diciamo la zona di ritest che possiamo aspettarci anche di questo trend io ve l'ho già detto secondo me questo è il trend a rialzo che abbiamo avuto finora quindi io mi aspetto comunque che potrebbe anche il prezzo ritestare gli 1,09 500 più di qua secondo me non non ha un grosso sfogo però già quest'area comunque di prezzo no questa tra il 0,38 e il 0,50 comunque racchiude in sé un'area molto forte di prezzo cioè il 1,09 400 e il 1,09 500 quindi io mi aspetto non tanto un prezzo al ribasso almeno a ritestare quest'area ma quanto un diciamo più che altro mi aspetto un cap and end che vada poi invece in continuazione di trend proprio perché perché questo io lo vedo come un trend che ha già diciamo toccato testato il punto 2 e che e che va verso gli 1,12 e ecco perché io me l'aspettavo comunque molto più vicino diciamo io la prima area comunque di prezzo no diciamo che noi vogliamo tenere sott'occhio comunque sono gli 1,11 quindi quest'area qui di prezzo intorno agli 1,11 quindi per posizioni multi day io comunque prevedo almeno una situazione che qualora appunto tenendo conto la staticità di questa situazione in cui il prezzo è all'interno io credo che dopo questo cap and end potrebbe arrivare in maniera un po più salda sugli 1,11. Dopodiché un'altra cosa importante è comunque la visione di lungo periodo che io lo vedo sugli 1,12 proprio perché poi a parte la confluenza di prezzo sul breve periodo e un'altra cosa è ovviamente la confluenza di prezzo che si ha dove ovviamente anche sull'orario perché per un intra day io vedrei almeno la rottura degli 1,10 comunque un buon livello di entratura dopodiché comunque gli 1,10 e 700 in confluenza appunto con vedete con aspettate un attimo che voglio mettere vi voglio mettere un attimo anche uno zoom al volo per farvi vedere che la zona degli 1,11 è comunque strettamente correlata a livello anche diciamo di lungo periodo infatti se andiamo a mettere il 4 ore guardate un attimo il ragionamento dove vi voglio portare che visto che il 38 per cento rappresenta gli 1,11 quindi io penso che questo trend in cui ci può essere anche no questa zona diciamo laterale potrebbe convincere il prezzo poi a ritornare a salire e arrivare ecco in breakout sugli 1,11 dopodiché ovviamente qui possiamo avere un prezzo di discesa intorno agli 1,10 e 700 per poter continuare il trend la cosa importante ovviamente è capire però adesso se il diciamo più che altro se questa trend line poi di lungo periodo che è stata rotta può continuare il prezzo a rialzo anche perché se potrebbe anche magari appunto bisogna cercare la rottura perché potrebbe invece rompere a ribasso e ritestare gli 1,09 e 500 prima di ritornare a salire con che cosa con la rottura magari di del canale diciamo rialzista che possiamo vedere in questa zona qua ok quindi questo è ovviamente una di quegli aspetti fondamentali che possiamo vedere ecco qua questo è il canale che vi dicevo vedete quindi questo diciamo questo canale rialzista ok su cui che poggia su questa trend line che poi è vedete è un mini ciclo di rialzista quindi questo è quanto riguarda l'euro dollaro andiamo subito a vedere la sterlina che comunque dopo un periodo molto forte di rialzo vedete che sta ritestando gli 1,22 questa zona molto forte dopo questo testa e spalle vedete che è venuta a formarsi e vedete con neckline proprio questa è venuta a rompere di nuovo quindi io me l'aspetto comunque intorno adesso intorno a questa zona qui a questo livello di prezzo praticamente da queste chiusure che rappresentano diciamo gli 1,2800 e gli 1,2200 perché perché io lo vedo in continuazione di trend anche la sterlina visto anche il rafforzamento che potrebbe avere sull'aspetto diciamo long time sull'aspetto quello di lungo un'altra cosa importante ovviamente è legato invece aspettate è legato allo yen perché lo yen e poi andiamo a vedere anche il new zealand è proprio perché c'è un movimento che noi avevamo sotto controllo molto importante guardate come ecco qui anche lo yen che lo trovavamo vedete che io vi dicevo guardate che ritornerà sui 100 vedete sui 107 dollari allora guardate ragazzi questo era il movimento che io vi avevo detto qualche tempo fa vedete con io avevo detto guardate che se entrate sullo short praticamente qui mettiamo il take profit ovviamente poi dipende dal vostro dalla vostra diciamo strategia e con take profit praticamente i 107 dollari vedete come infatti il risk rewards era praticamente 1 a 2 e siamo andati a prendere il profitto proprio in questa zona dei 106 dollari e 700 perché ha fatto questa questo cavale diciamo perché c'è stato questa zona no fatta in questo modo con questo doppio massimo ragazzi perché era il dollaro che si era rialzato per motivi speculativi avevamo visto un dollaro che era in discesa avevamo visto un dollaro che principalmente era a un livello di prezzo molto particolare che tendeva quasi a essere un in una fase appunto discensionale molto forte vi avevo detto che lo us dollaro poteva arrivare dove intorno ai 12 guardate questo era vi ricordate lo us dollaro quando io vi avevo detto dove poteva arrivare no vi avevo detto guardate che il dollaro sta in tendenza discesista può arrivare addirittura anche sui 12 addirittura fino all'886 fino ai 12 2 79 ho detto in prima battuta vedrete che piano piano scenderà sempre di più che cosa è fatto infatti ha fatto un primo ritracciamento un primo ritracciamento partendo proprio sui 12 3 92 questo ritracciamento è dovuto anche a quel rialzo di che cosa del ritracciamento anche dell'oro e quello che ha avuto anche lo yen l'euro eccetera perché lo vediamo ancora debole quindi io che cosa cosa voglio voglio farvi vedere che questo potrebbe essere appunto una flag di continuazione questo potrebbe essere un abc di pattern con il risvolto che potrebbe arrivare intorno ai 50 dollari cioè sulla sulla nostra prima soglia target sullo us dollar cosa succede perché io lo vedo in questo modo qui perché ponendoci sul su un andamento geopolitico in un certo senso anche di tenendo conto anche del degli avvenimenti appunto geopolitici e quello che abbiamo intorno a quello che è il diciamo la politica economica statunitense prevedendo i tagli ovviamente qui dove dove si va ad arrivare ovviamente si va arrivare a un indebolimento del dollaro un indebolimento e un rialzo ovviamente perché i tassi interesse fanno questo un indebolimento del dollaro un rialzo ovviamente dell'azionario perché proprio perché diminuiscono gli interessi a livello a livello di azionario appunto no quindi si diminuiscono quindi si tagliano i tassi di interesse si vanno a pagare meno meno spese a livello di aziendale e si va però a una discesa del della moneta in questo caso del dollaro questo ha portato uno ancora una mano no a tutto quello che è il correlativo con il dollaro e quindi mi aspetto ancora un ribasso del dollaro in prima battuta ovviamente sempre almeno a ritestare i minimi ponendoci che questo è un ciclo che come vedete si propone come un ciclo che misurando il ciclo vedete che rispecchia i 50 giorni ok sia anzi questo caso scusate 50 barre quindi perché stiamo sul quattro ore però comunque andiamo sul giornaliero così vi lo faccio vedere rispecchia questi cicli antecedenti ok quindi parliamo sempre di un appunto di una decina di giorni quindi sono rispecchiati guardate se io vi faccio il paragone con i cipri con i cicli di prima rispecchia i 10 giorni vedete 10 barre 10 barre 10 barre quindi questi sono cicli che possiamo vederli come cicli in un certo senso di che potrebbero comunque ricondurre poi il prezzo all'interno dei minimi quindi questo è quello che io un po vado a previsionare diciamo all'interno settimanalmente parlando per quanto riguarda invece un'altra cosa volevo far vedere era proprio loro che sta continuando la sua ascesa proprio perché perché abbiamo in contraposizione un dollaro debole io me l'aspetto ovviamente sul breakout ci aspettiamo il breakout insomma della flag rialzista e vediamo adesso come si comporterà proprio nei prossimi giorni specialmente dopo aver visto come si comporterà poi anche lo use oil però vediamo anche loro in una situazione rialzista con appunto in contrapposizione a quello che è il dollaro e a quello che è questa mattina anche i minimi dello use oil che possiamo eventualmente considerarli vedete come un trend discesista che potrebbe essere un fine trend e anche una fase ciclica finita per poter continuare invece un ciclo a rialzo però ovviamente bisogna aspettare sempre quello che sono i nuovi dati di mercoledì quindi poi questo lo vedremo mercoledì però vedete come mantiene la ciclicità anche anche il petrolio e quindi vedremo anche questo anche questo fine ciclo dove andrà poi a testarci perché noi aspettiamo sempre zona 50 dollari vedete anche perché c'è un'esaustività anche guardate la guardate anche la candela no questa candela qui di esaustività che ci si che ci presenta comunque un'azione di esaustività di appunto di ribasso ok bene questo è quello che volevo farvi vedere principalmente su sui mercati sulle major volevo farvi vedere un attimo invece quello che è eur audi che noi stavamo in cerca di visione diciamo di conferma di questo pattern armonico l'abbiamo quasi ci siamo quasi arrivati questo è un pattern armonico è un questo è un gartelay pattern che dovrebbe avere come vedete e anche il ciclo si sta concludendo dovremmo avere adesso un'azione ciclica all'interno fino al 0.65 per poi ritracciare vedete come anche il posizionamento di questo di questo 0.65 è strategico proprio perché ci sono queste chiusure qui ci sono anche queste che vanno in confluenza anche con gli 1.65 che è un prezzo intero quindi che potrebbe essere appunto un bello stop per il prezzo per poi ritracciare intorno ai 0.62.500 come possiamo prevedere come anche continuazione di quel trend che sta invece in linea rialzista quindi io prima di sciortare l'euro dollaro l'euro dollaro australiano tenderei a capire se arriverà poi all'interno di questa zona degli 1.65 anche perché l'euro si sta rafforzando quindi penso che potrebbe esserci una continuazione di trend con la rottura dei 0.68 sul lungo periodo questo è quanto volevo dirvi stamattina sul forex volevo poi concludere poi ci vedremo sull'azionario volevo concludere solamente per quanto riguarda la diciamo l'azionario americano solamente per farvi vedere quello che è successo proprio in questi giorni su apple che abbiamo raggiunto ragazzi abbiamo raggiunto il nostro primo target operativo del 127% i 2 e 29 i 2 e 30 il 127% l'abbiamo raggiunto abbiamo chiuso ve lo dico già abbiamo chiuso in linea di massima anche l'operazione che avevamo come quella vendita della put sotto i 2 e 17 abbiamo e abbiamo anche raggiunto il 127% in allungo su questo trend rialzista quindi lo attendiamo poi sui 240 dollari volevo farvi vedere solo questo che poi lo vedremo in linea di massima sull'americano va bene vi ringrazio molto noi ci diamo appuntamento nel pomeriggio col azionario americano e quello italiano e ovviamente un buon trading a tutti da Cristian Ciuffa ciao